Ci sono anche sei aziende di cui quattro attive nel settore della ristorazione compresa una sala ricevimenti tra i beni sequestrati ad un pregiudicato andriese di 59 anni. Il provvedimento è stato emesso dalla terza sezione penale del Tribunale di Bari su richiesta della procura ed eseguito dai carabinieri del comando provinciale BAT. Nel complesso il sequestro di beni e disponibilità finanziarie finalizzato alla successiva confisca ammonta a circa 4 milioni di euro. Secondo l'impianto accusatorio un patrimonio accumulato grazie alle attività illecite legate a reati in materia di sostanze stupefacenti e contro il patrimonio. Ricostruiti gli acquisti e i movimenti finanziari degli ultimi vent'anni per gli investigatori il 59enne pregiudicato andriese raggiunto dal sequestro rappresenterebbe una figura di elevata pericolosità sociale capace di reimpiegare i soldi ottenuti illecitamente per l'acquisto di immobili e per rilevare attività imprenditoriali. Sigilli su due unità immobiliari, una sala ricevimenti ed altre tre aziende attive nel settore della ristorazione, una nel commercio di bevande con sedi a Trani e Biceglie ed una attiva nel settore dei trasporti con sede ad Andria e poi ancora due autovetture e disponibilità finanziarie attive su otto conti correnti. Un intervento importante, quello condotto dal reparto operativo e dalla compagnia di Andria perché riportiamo 4 milioni di euro di beni, società illecite accumulazioni patrimoniali ad appannaggio dello Stato ed è quello che stiamo facendo, è il nostro leitmotiv degli ultimi anni, quello di aggredire i patrimoni illeciti perché è giusto ripristinare il normale circolo dell'economia.